Allora, io mi chiamo Teresa Masciopinto e nella vita sono la responsabile culturale dell'area sud di Banca Etica e quindi sono qui stasera insomma interpellata anche per portare un po' quella che è la nostra esperienza come Banca Etica a supporto delle imprese sociali. Mi prenderò anche un po' la libertà di dare qualche mia considerazione rispetto anche a quello che avete detto fino adesso, alcune considerazioni che rivengono anche molto dalla pratica quotidiana nel settore e a servizio delle imprese sociali anche guardando dall'ottica dell'evoluzione che con il tempo c'è stata un'evoluzione anche fortemente accelerata o condizionata dal sostanziale stravolgimento del sistema di welfare italiano ed europeo che di fatto ha portato nel tempo a dare prima un ruolo alle imprese sociali e adesso ne sta pian piano dando un altro parleremo nello specifico. Io non so quanti di voi conoscono Banca Etica, che livello di approfondimento conoscono l'esperienza di Banca Etica. Banca Etica è un'esperienza tutta italiana e tutta particolare perché è l'unica esperienza di banca quindi una vera e propria banca riconosciuta dall'ABI e costituita in forma di casa di credito cooperativo Banca Popolare è l'unica esperienza di banca in Europa che ha fin dall'inizio avuto come suo punto di riferimento operativo come destinatario quasi esclusivo il mondo del terzo settore e dell'impresa sociale. Questo per via anche, se vogliamo, Banca Etica è nata nel 1999, facciamo l'anno prossimo appunto 15 anni è nata nel 1999 ma alla fine di un percorso anche abbastanza lungo, durato quasi 5 anni di raccolta del capitale sociale necessario per costituire, secondo la legge italiana, una banca popolare La scelta della forma giuridica della Banca Popolare è stata fondamentalmente orientata dal fatto che si voleva operare su tutto il territorio nazionale e quindi si è scelta quella forma che manteneva fondamentalmente un principio di democraticità alla base, all'interno delle banche popolari, la normativa prevede che per le banche popolari valga la legge una testa, un voto quindi al di là del numero di quote azionari possedute dal singolo possessore il valore del voto in assemblea è sempre lo stesso, questo appunto per tutelare un principio di democraticità dicevo, per poter costituire una banca popolare nel 1999 bisognava raccogliere, avere 12 miliardi e mezzo di lire che voglio dire non sono tantissime se si parla di grandi gruppi bancari sono tantissimi se si fa riferimento ad un progetto che era ed è un progetto di banca diffusa cioè di banca d'azionariato diffuso di fatto noi abbiamo raccolto a partire dal 1996, anzi anno 94 100.000 lire su 100.000 lire, 12 miliardi e mezzo di lire per poter costituire una banca popolare che fosse di proprietà del numero maggiore di persone fisiche e giuridiche possibile i promotori di questa idea sono stati gli stessi soggetti dell'economia civile, del terzo settore, dell'impresa sociale alla quale in qualche maniera la banca rivolge, almeno rivolgeva la sua principale attenzione quindi tra i 22 soci fondatori ci sono l'Arci, la Gesci, le Acli, uno spezzone del sindacato c'è tutto il movimento del commercio equesolidale, c'è una parte di Caritas diciamo con un progetto che partiva per essere molto aperto e includente il più possibile e coinvolgesse tutti quei soggetti che pur facendo impresa quotidianamente facendo un'impresa attenta evidentemente anche alle conseguenze non immediatamente economiche del fare impresa, di fatto in quel momento particolare erano considerate non bancabili dal sistema bancario tradizionale così come non bancabili erano considerati i soggetti che non sono ancora tuttora considerati i soggetti per i quali queste imprese lavorano io spesso dico in giro una banca di sfigati che lavora con gli sfigati diciamo questo era diciamo in linea di massima l'idea fondamentale e quindi la grande scommessa era nel dimostrare nella sfida e dimostrare prima di tutto che si potesse costruire una banca di questo tipo e dall'altra che questa banca stesse in piedi quotidianamente fosse uno strumento reale e concreto a disposizione di questo tipo di imprese attualmente banca etica dispone di un capitale sociale di quasi 50 milioni di euro raccoglie circa 900 milioni di euro e presta quasi 900 milioni di euro in assoluta controtendenza di quanto diciamo normalmente succede nel mercato bancario tradizionale nel quale diciamo sempre più l'attività peculiare delle banche si è spostata dall'offerta, dal lavoro classico tradizionale che le banche dovrebbero fare, quello dell'intermediazione finanziaria all'offerta di servizi di vario tipo sostanzialmente di natura finanziaria finalizzati a massimizzare il profitto di quelli che detengono fette di denaro, di patrimonio immobiliare nella strana di maggioranza dei casi. La scommessa di banca etica è stata ed è di dimostrare che si può fare banca rimettendo al centro i valori dell'uomo e dell'ambiente, cioè si può fare banca recuperando quella funzione sociale che era alla base dell'istituzione stessa delle istituzioni bancarie, fate conto che l'intuizione iniziale rispetto all'idea della banca l'hanno avuta i francescani nel Medioevo con i primi banchi dei pegni. La funzione della banca dovrebbe essere quella di raccogliere risparmio fra chi più ne ha rispetto alle esigenze di vita quotidiana e prestare tramite i mutui prestiti questo denaro a famiglie e imprese che ne hanno bisogno per costruire un livello generale di qualità della vita migliore e quindi anche per portare una ricchezza sui territori. Capite bene che questa funzione è una funzione in sé molto sociale perché in realtà quello che alla fine si realizza è una ridistribuzione della ricchezza sui territori. Chi più ha mette a disposizione di chi ne ha bisogno per determinate funzioni. Che cosa è successo nel tempo? Nel tempo è successo quello che vi dicevo prima cioè che le banche hanno spostato il loro agire su altri terreni con il principio della finanziarizzazione dell'economia di fatto il lavoro delle banche si è concentrato prevalentemente sul supporto a determinati meccanismi speculativi. di fatto creando la conseguenza di non ridistribuire il denaro sul territorio con quello che poi diciamo gli occhi, diciamo l'effetto che è sotto gli occhi di tutti chiamato credit crunch cioè l'effetto che poi effettivamente chi vuole in qualche maniera intraprendere un'attività imprenditoriale di fatto si trova alle porte sbarrate rispetto alla concessione di un credito. L'idea se volete molto tradizionale, anche ben poco progressista era quella di ritornare al passato e ridare alla banca questa funzione. In più però dimostrare che le imprese sociali sono anche imprese che stanno in piedi sul mercato cioè sono anche imprese che ripagano il loro debito. Fate conto che questa cosa che ci sembra anche tutto sommato una cosa di buon senso non è assolutamente una questione acclarata tant'è che anche se si fa riferimento alle grandi normative internazionali come il famoso Basilea 3 che regolamenta l'attività finanziaria di tutti gli soggetti europei secondo i parametri di Basilea 3 una cooperativa sociale è praticamente l'impresa che ha alto rischio per una banca. La conseguenza di questa cosa è che chi vuole prestare i soldi ad una cooperativa sociale come Banca Etica deve accantonare quote di capitale sociale a riserva evidentemente a tutela rispetto al sistema di questa operazione molto più elevate di quanto non farebbe per una impresa di altro tipo. Evidentemente questa modalità di lettura per quello io apprezzo molto anche il lavoro che Marco e le fondazioni in generale fanno da questo punto è di creare una cultura condivisa rispetto alla necessità di ripensare e di riguardare tutto ciò che attiene alla reale funzione, solidità e validità di un'impresa e di creare una cultura collettiva rispetto alla necessità che il fare impresa rimetta al centro o comunque prenda in considerazione tutti quei comportamenti e tutte quelle conseguenze che pur non essendo immediatamente indirizzate a questioni economiche oppure legate al profitto dell'imprenditore però producono valore aggiunto in termini di ricchezza per una comunità e per un territorio. quindi io credo che la prima cosa che in questo momento dobbiamo fare e se vuoi era anche un primo una risposta a una tua domanda rispetto a come facciamo effettivamente a valorizzare i prodotti che hanno un grande valore sociale che hanno un costo diciamo più elevato in una società nella quale la concorrenza più spietata chiaramente porta a spingere esclusivamente al massimo ribasso dei prezzi. io credo che quello che dobbiamo fare politicamente e culturalmente è creare una rete solidissima fra soggetti che condividono questo tipo di visione del fare impresa e in questi soggetti hanno un ruolo fra questi soggetti hanno un ruolo fondamentale i consumatori che cosa diciamo qual è l'azione culturale perché poi io sono qua lavoro per una banca però io lavoro per una banca che mi paga per fare l'attività culturale già questa insomma ve la dice lunga rispetto al tipo di banca che è banca etica per fare questo io credo che dobbiamo e noi lavoriamo tanto perché riteniamo questa cosa indispensabile lavorare sul concetto a quale faceva riferimento prima anche Marco del voto col portafoglio cioè dell'idea che ogni giorno quando noi ci alziamo e scegliamo che cosa comprare che cosa mangiare che tipo di viaggio fare dove depositare il nostro risparmio di fatto mandiamo al mercato un segnale molto forte rispetto a da che parte noi stiamo cioè rispetto a quelli che sono i trend di consumo che noi cittadini consapevoli vogliamo sì domanda certo il tipo quindi magari la possibilità di c'è un conto corrente con un tasso di interesse del 7 per cento piuttosto del 3 per cento quindi andare a definire banca etica piuttosto di un'altra cosa è piccolante allora stante che non esiste quel gap di differenza tra un conto e un conto sì sì ma sono assolutamente d'accordo con te allora è vero che diciamo i conti si devono fare partendo da quello di cui si dispone io credo però che sia altrettanto vero e oggi più che mai che prima di fare delle scelte comunque ci dobbiamo porre rispetto a capire che cosa sta succedendo il fatto che siamo in un punto di non ritorno rispetto a stili di consumo stili di vita predazione delle materie prime sfruttamento dei paesi impoveriti e via discorrendo è un dato di fatto oggettivo cioè anche chi fa un'analisi diciamo economica tradizionale per anche quelli che sono del libero mercato più sfrenato sanno che in realtà così non si può più andare avanti e che probabilmente quelli stipendi sono di quel tipo anche perché diciamo stanno sono il frutto di scelte scelerate da un punto di vista di politiche sociali è chiaro che non si può fare tutto è evidente che chi non ha la possibilità di spendere liberamente il proprio denaro deve farsi dei conti in tasca quello che io penso però sia importante fare è probabilmente darsi anche delle priorità oppure provare che significa anche provare a mantenere dei comportamenti coerenti rispetto a quelli che sono i propri valori rispetto per esempio all'utilizzo del denaro in realtà noi siamo molto spesso complici inconsapevoli di alcune scelte fatte da altri siamo complici inconsapevoli uno perché nessuno ha interesse a farci capire a farci conoscere effettivamente che cosa il sistema bancario in generale fa dei nostri soldi perché appunto il principio primo di un determinato modo di fare impresa e di fare finanza è che non si debba capire tanto non ci sarebbe motivo altrimenti per inventarsi derivati specifici specifici su queste cose complicatissime no non diciamo non c'è interesse da parte di nessuno a renderci consapevoli perché questo significa che non esiste un presidio un controllo sociale da parte della cittadinanza diciamo l'idea è che dobbiamo diventare tutti consumatori prevalentemente acefali e quindi da questo punto di vista allora la prima cosa che noi diciamo è chiediamo che ci sia trasparenza allora l'introduzione di meccanismi che valgono per tutti di fatto modificano anche gli equilibri sul mercato allora il fatto che noi viviamo in un mercato di libera concorrenza è una fesseria più totale cioè più di questo di fatto il mercato ideale non esiste cioè il mercato che smith aveva pensato sta bene sta solo sulla carta in realtà quello in cui noi viviamo è un mercato nel quale funzionano le oligopoli in quali funzionano le grandi lobby in quali tutti a un certo punto sono d'accordo su tutto allora nel momento in cui si introducono delle regole a sistema che valgono per tutti probabilmente le regole di quel mercato portano dei benefici su tutti è chiaro che però se io personalmente poi passa molto da da anche da una cultura personale rispetto alle questioni io sono pacifista sono socia di emergency vado vado a fare le manifestazioni non so che con i miei soldi la banca la mia banca finanzia il mercato degli armamenti delle mini anti uomo casomai diciamo se anche si vuole rifare un po la coscienza da una donazione molto grossa all'associazione del paese per assistere i bambini malati quello che noi vogliamo fare è ribaltare questo concetto cioè l'utilizzo del denaro come volano di cambiamento reale quindi spostare l'idea da welfare assistenzialistico un welfare in qualche maniera che funziona tutto almeno questa è l'idea questa è la nostra idea che è nata in un momento in cui il welfare era un welfare di promozione il welfare attuale è un welfare che di fatto sta ritornando sta arrivando a un'idea assolutamente assistenziale e marginale residuale del ruolo dello stato sociale quindi dicevo la nostra idea è che con il denaro si può cambiare e spostando il denaro da un'impresa all'altra si può cambiare in meglio questo mondo il lavoro che c'è da fare è di abbassare quei costi quei costi si abbassano se comunque si introducono delle regole di un certo tipo che di fatto parificano quel gap che esiste sul mercato tra i più forti e meno forti si può fare se tanti consumatori diventano consumatori consapevoli noi siamo impegnati a sostenere la rete dei nostri clienti nel senso che abbiamo un progetto che si chiama soci in rete che vuole proprio fare questo cioè promuovere le attività i prodotti e i servizi dei soci clienti di banca etica in maniera tale che si crei un meccanismo un mercato virtuoso che si autosostiene in maniera tale da crescere questa rete il lavoro che noi per esempio abbiamo fatto in questi anni è stato anche quello di lavorare molto sulla efficienza sulla nostra efficienza banca etica è una banca prevalentemente virtuale è una banca che non non ha se non uno sportello regionale in ogni regione d'italia o più o meno una rete di banchieri ambulanti sono i nostri promotori finanziari è una banca che in qualche maniera prova a valorizzare l'apporto dei soci e delle organizzazioni sul territorio quindi per creare quelle esternalità che però sono esternalità positive poi alla fine in un momento nel quale se tu depositi dei soldi in banca la banca non ti dà più niente cioè la differenza in realtà è quanto ti costa o non ti costa tenere il denaro in una banca oppure, perché questa è la questione farsi la domanda com'è possibile che una economia praticamente ferma anzi in recessione in cui diciamo la nostra ma quella dell'Unione Europea il PIL è sempre più indietro ha messo e non concesso che vale quell'indice com'è possibile che io poi vado in una banca che dovrebbe teoricamente vivere del rapporto che c'è fra quanto raccolgo e quanto visisco che mi diano il 10% di interesse è evidente che quel 10% di interesse è frutto di un'attività per la quale qualcuno da qualche parte nel mondo ci sta rimettendo e ci sta rimettendo tanto e che qualcuno da qualche parte nel mondo adesso è anche qualcuno che sta qua cioè è anche qualcuno che è italiano se vogliamo fare un ragionamento diciamo di economie di questa parte del mondo quindi l'interrogarsi se vale di più 10 euro all'anno in più di interessi o di meno rispetto a quello che c'è in gioco secondo me dovrebbe farci dovrebbe farci riflettere è chiaro che un ragionamento di questo tipo io sono andata a fare una chiacchierata su questi temi all'interno di un carcere evidentemente in maniera molto lucida e molto attenta le domande che mi venivano poste erano contestualizzate erano criticizzate e facevano riferimento a questo io credo che si possa partire da quello che si può fare allora se io posso permettermi di comprare un prodotto del commercio equo e solidale io inizio a comprare un prodotto del commercio equo e solidale e quando potrò ne comprerò due ne comprerò tre però queste cose comunque funzionano le campagne di pressione che comunque i consumatori critici fanno hanno fatto funzionano in realtà noi spesso non ne sappiamo più niente ma non ne sappiamo più niente perché non conviene a nessuno che noi lo sappiamo che funzionano io non so se vi ricordate per un periodo credo che girò anche sulla rete la campagna di boicottaggio della Shell che ci chiedevano tutti in realtà se ne fece un gran polverone improvvisamente non si sape più nulla in realtà non si sape più nulla perché quella campagna era stata tacitata con milioni di euro e di dollari perché era una campagna che produceva i suoi effetti nello spostamento dei consumi allora io credo fortemente che la scommessa per vendere quei prodotti è uno spiegare parlare rendere consapevoli le persone due creare delle alleanze molto forti dei sistemi di mercato che è vero all'inizio possono anche essere protetti nel senso che si autoproteggono ma che che creano quella rete di supporto fondamentale per superare quel tema della fragilità al quale tu facevi al quale tu facevi riferimento allora perché la finanza etica perché banca etica uno perché appunto si si è basata tutta tutto sulla sul protagonismo dei soci e dei clienti banca etica ha al suo interno una rete di soci organizzati che svolgono attività sociale e culturale e che in qualche maniera hanno un'attività di indirizzo politico rispetto alle scelte strategiche della banca perché è trasparente tutti coloro i quali ricevono finanziamento da banca etica sono sul sito di banca etica quindi se voi avete una particolare curiosità di capire a chi presta i soldi banca etica e siete per esempio anche un cliente un socio di banca etica sapete che con i vostri soldi banca etica a Bari o a qualsiasi altra parte d'Italia ha finanziato una cooperativa sociale piuttosto che un'altra un'impresa piuttosto che un'altra perché appunto sostiene un tipo di economia che rimette al centro il tema fondamentale del rispetto delle persone del rispetto della dignità del lavoro del rispetto dell'ambiente dicevo banca etica è un caso unico in Europa perché si è data come target di riferimento le imprese sociali noi finanziamo finanziamo all'inizio quasi esclusivamente finanziavamo cooperative sociali associazioni di volontariato organizzazioni di promozione associazioni di promozione sociale enti locali organizzazioni senza scopo di lucro diciamo in generale e famiglie famiglie per quello che attiene diciamo i consumi di necessità come può essere l'acquisto della prima casa come possono essere le spese per la formazione le spese per la sanità le spese di ristrutturazione della casa per accogliere bambini in adozione spese di ristrutturazione che attende i principi della bioarchitettura cioè diciamo una finalizzazione dei consumi che diciamo tiene conto di quei valori di quei valori di sfondo non il finanziamento il credito al consumo to core sì da un po' di tempo proprio perché ci siamo resi conto che non è la forma giuridica che condiziona la funzione sociale o diciamo lo spirito la natura sociale di un'impresa finanziamo anche imprese profit che hanno diciamo una grossa visione per quello che attiene o comunque una grossa attenzione a tutti i temi legati alla responsabilità sociale d'impresa prevalentemente operiamo nel settore dell'energia da fonti rinnovabili di agricoltura biologica della cultura cioè in settori in cui difficilmente si trovano forme giuridiche imprese costituite in una forma giuridica non lucrativa ma che comunque hanno come oggetto sociale interventi interventi diciamo molto connaturati da questo da questo punto di vista come facciamo a selezionare a selezionare questo cioè a valutare questo tipo di imprese tutto il tipo di imprese anche su questo diciamo abbiamo elaborato un modello abbastanza originale tutti coloro i quali richiedono un finanziamento a banca etica oltre chiaramente ad accettare il fatto che quelli dovessero essere finanziati il loro finanziamento andrà sulla rete sarà aperto e disponibile alla conoscenza di tutti si sottopongono sono sottoposti ad una valutazione sociale quindi ad un'istruttoria che va di parallelo in parallelo all'istruttoria economica del tutto simile a quella che realizzano le altre banche un'istruttoria sociale che viene realizzata dai soci volontari di banca etica del territorio dove insiste l'azienda che chiede il finanziamento che è finalizzata ad acquisire quelle notizie quelle informazioni che portano elementi di conoscenza rispetto alla credibilità del soggetto la credibilità del progetto ulteriori rispetto a quelli che possono essere desumibili dal bilancio di esercizio ordinario e in più diciamo con una funzione anche di garantire quel controllo sociale da parte dei consumatori risparmiatori della banca rispetto a come la banca utilizza i propri soldi prima facevi riferimento mi sembra fossi tu all'indici non so chi all'indici di bilancio di bilancio economico che in qualche maniera no forse era lui sempre gli indici di bilancio economico che in qualche maniera poi vengono recuperati all'interno all'interno del bilancio sociale in realtà a leggere bene un bilancio economico si si riscontrano tante notizie si possono riscontrare tante notizie che hanno anche una chiave di lettura e una ripercussione rispetto alla condotta dell'impresa rispetto alla regolarità della condotta di un'impresa perché per dirvi nel momento in cui ci sono delle strane plusvalenze attive e queste plusvalenze attive sono ricorrenti e nessuno ti dice che cosa sono queste plusvalenze attive un'idea che ci possa essere qualche incasso in nero forse ci sta dietro nel momento in cui l'azienda ha dei debiti nei confronti dell'Inps il fatto che non paghi i contributi ai lavoratori lo dice lo dice il bilancio economico non c'è bisogno di fare il bilancio sociale non perché non sia utile anzi per effetto diciamo di questo lavoro culturale contagioso di creazione di una cultura attenta e aperta da questo noi per esempio spingiamo tutti i nostri clienti a redigere il bilancio sociale almeno una forma abbozzata almeno una riflessione interna rispetto appunto alle condotte dell'azienda e rispetto anche alle percussioni sociali interne ed esterne che quel tipo di fare impresa ha però per esempio noi incrociamo le notizie che ci dà il bilancio economico con quelle che recuperiamo attraverso la valutazione sociale che tra l'altro in alcuni casi funge anche da sbaramento del finanziamento anche nei confronti di imprese che hanno bilanci solidi cioè ci sono stati casi nei quali il business o la maniera di fare il business di un'impresa sociale pur essendo florida oppure essendo sana da un punto di vista economica aveva delle criticità e delle lacune da un punto di vista sociale e ambientale in quel caso la valutazione sociale il valutatore sociale di fatto ha bloccato il finanziamento il finanziamento a quell'impresa questa è un'altra maniera per rendere diciamo molto attuale e concreto un altro principio della finanza etica che è appunto quello della prossimità cioè l'idea che si deve mantenere sempre il più possibile più stretto nel momento in cui la finanziarizzazione invece la fa da padrona nel momento in cui di fatto i soldi girano tutte le ore del giorno e della notte in sistemi virtuali mantenere invece molto stretto il legame che c'è fra chi deposita i soldi in banca e chi ne ottiene in qualche maniera i benefici e riverbare i benefici all'interno della comunità sul tema della democrazia vi ho già detto questa idea comunque di al di là di quante quote di azionari si posseggono di esercitare lo stesso potere all'interno dell'assemblea nel momento in cui si prendono si prendono delle decisioni che cosa ad oggi ha prodotto in qualche maniera il fatto che ci sia banca etica in Italia sicuramente ha prodotto un risultato tangibile molto tangibile per le realtà del terzo settore dell'impresa sociale che adesso sono anche realtà che le altre banche si contendono cioè c'è stata la dimostrazione che quei soggetti sono soggetti bancabili cioè sono soggetti imprenditoriali credibili e seri i tassi di sofferenza di banca etica sono di gran lunga più bassi dei tassi di sofferenza di sistema il tassi di sofferenza è quello che appunto dice quanto del denaro prestato rientra a dimostrazione che in realtà i soggetti più piccoli anche più deboli i debiti li restituiscono ha sicuramente prodotto una cultura il fatto che si sia innescata una riflessione sulla urgenza di rimettere l'etica o almeno di iniziare a riparlare di rimettere l'etica al centro del sistema bancario perché uno dei problemi fondamentali in questo momento è creare le condizioni perché il sistema recuperi credibilità cioè recuperi quella capacità di dare fiducia agli investitori dare fiducia agli imprenditori dare fiducia ai consumatori e ai risparmiatori non può esistere rispetto a quanto tu dicevi tra controllori e controllati quando la Lehman Brothers è fallita le società di rating gli avevano dato 3A cioè i prodotti della Lehman Brothers erano collocati sul mercato con un indice di valore di apprezzamento di rating del più alto possibile la storia ha dimostrato in maniera anche abbastanza faimplice che erano spazzatura cioè che erano titoli impacchettati bidone e quindi il tema del ridare credibilità ad un sistema è il tema fondamentale e in qualche maniera è diciamo l'unica è l'unica condizione perché si possa riattivare un meccanismo economico virtuoso che rimetta al centro la dignità del lavoro che cosa se il lavoro così così com'è oggi è solo un costo un costo che va tagliato possibilmente esternalizzato è evidente che la strada che abbiamo percorso è una strada che porta al conflitto sociale è una strada che porta alla guerra cioè è un'economia di guerra in questo senso al di là del commercio delle armi perché se io voglio dire con una politica predatoria vado a consumare le risorse nei paesi impoveriti costringendo quelle persone in qualche maniera a venire ad intraprendere quei viaggi che sappiamo bene creando disoccupazione qua creando povertà là stiamo lavorando esclusivamente per aumentare invece che ridurre il conflitto sociale la distanza il gap che c'è fra chi tanto ha e chi non ha nel giro degli ultimi 50 anni questo gap è diventato più di 10 volte maggiore di quanto non era stato nella nostra storia quindi non è possibile diciamo che continuare 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 in questa maniera il successo di piccole realtà perché poi banca etica è una piccola realtà come banca etica però in qualche maniera da un lato dimostra che si può fare dall'altro da da un'alternativa da una possibilità a quelli che vogliono in qualche maniera decidere di adottare stili di consumo e di risparmio differenti da una chance a quelle imprese che credono fortemente in questo tipo di non soltanto di ideali in questo tipo in questa maniera di stare sul mercato perché poi non stiamo parlando di di buonismo cioè non stiamo parlando di opere buone nel senso stiamo parlando di opere buone ma non di opere caritatevoli nel senso che poi è un dato di fatto oggettivo che in questo periodo di crisi le imprese che più sono riuscite a contrastare la crisi e a stare a resistere sul mercato sono quelle che hanno anche adottato comportamenti etici e corretti perché perché un'impresa che ha delle buone relazioni industriali può chiedere nel momento di difficoltà ai propri lavoratori di fare dei sacrifici un'impresa che non inquina un'impresa che non distrugge una comunità è un'impresa che può trovare la solidarietà politica di una comunità nel momento in cui c'è la difficoltà un'impresa che ha dei buoni rapporti con i propri fornitori può chiedere i sacrifici ai fornitori è chiaro che questo vincolo che poi non è nient'altro che un vincolo se vogliamo solidaristico un vincolo tutto relazionale e diciamo come lo dobbiamo leggere cioè lo dobbiamo leggere come un comportamento buono no è anche un comportamento molto utile anche molto utilitaristico in alcuni casi però comunque crea quelle condizioni per le quali l'impresa sia sana allora riprendere o comunque continuare a parlare a promuovere questo tipo questa idea di impresa secondo me poi sono le cose che stanno facendo che stanno facendo a pistoglia che in qualche maniera tanti per fortuna adesso adesso fanno ci mette nelle condizioni di poter incidere da un punto di vista culturale e sostanziale anche aprendo nuove frontiere di business perché poi molto si gioca in termini di sostenibilità dell'impresa sociale molto gioca in termini di sostenibilità dell'impresa sociale la capacità di questa impresa di guardare in maniera innovativa a che cosa succede cioè la capacità di leggere i bisogni e dare una risposta in maniera innovativa in tempi più stretti quella è un'altra maniera con cui questo tipo di imprese possono stare più facilmente sui mercati l'idea di sperimentare dei meccanismi e dei modalità organizzative diverse anche là tanto si gioca nella qualità e nel tipo di relazione che c'è fra lavoratori tra i lavoratori e gli imprenditori è chiaro che il tema del lavorare sempre di più nell'ottica dell'innovazione sociale in un momento in cui lo svuotamento del ruolo dello stato sociale è totale perché noi siamo partiti quando le cooperative sociali erano un pezzo del sistema della solidarietà erano sostanzialmente gli esecutori di una serie di piani di solidarietà sociale per quello che riguarda le attività sociali di un grande disegno statale di un'idea di mondo adesso che non ci sono più risorse per finanziare lo stato sociale le imprese sociali si trovano nella necessità di dover ripensare al loro ruolo e di dover anche ripensare al loro ruolo nel mercato perché prima prevalentemente avevano un monocliente il monocliente era lo stato nella diramazioni locali era prevalentemente il contributo pubblico oggi un'impresa sociale che vive esclusivamente del contributo pubblico non è più pensabile tant'è vero che il fenomeno attualissimo è quello di riconversione delle imprese sociali su settori di mercato diversi tutto quello che c'è il tema che c'è legato al riuso al riciclo al recupero al promuovere delle economie di solidarietà al nuovo utilizzo al senso alle nuove monete diciamo a un'idea diversa di moneta tutto quello che c'è che gira intorno a botteghe alle botteghe di riuso di riciclo tutto quello che gira intorno a prestazioni sanitarie offerte a prezzi che sono diciamo più bassi di quelli di mercato ma che sono un po' più alte di quelli che normalmente sarebbero offerti dal sistema sanitario tradizionale in tutti questi settori troviamo che si stanno andando a ricollocare o a ripensare le imprese sociale l'agricoltura sociale oggi con il ritorno alla terra ritorno alla terra condizionato dal fatto che è inevitabile che si cambini i modelli di produzione il ritorno alla terra sta dando spazio a collocare nuove persone non solo diciamo soggetti svantaggiati classici da 381 ma anche disoccupati di lunga durata operai in mobilità cioè l'idea comunque che il ritornare alla terra significhi anche riapprioparsi del desiderio di cambiare la qualità della vita e di ripensare il modello di vita e il modello di sviluppo noi siamo una banca diciamo piccolina che però si mette a disposizione di questi imprenditori chiaramente questa cosa la fa attraverso la raccolta di risparmio di tutti i cittadini che condividono questa idea di fare banca e attraverso anche diciamo fondamentalmente perché questo è fondamentale la raccolta diciamo l'acquisizione di nuovi soci perché chiaramente aumentare il capitale sociale di banca etica significa aumentare la possibilità che banca etica faccia i prestiti faccia il suo lavoro e soprattutto e chiudo qui poi diciamo lascio anche a voi garantisce una cosa fondamentale che banca etica rimanga indipendente cioè rimanga di proprietà di tutti quelli che si comprano un'azione due azioni cinque azioni di banca etica senza condizionamenti politici e senza condizionamenti diciamo o senza troppi condizionamenti derivanti dal mercato perché quelli naturalmente ci sono perché siamo inseriti in un contesto di ampio spettro a livello territoriale quindi per Puglia e Sud Italia qualche esempio concreto di imprese in realtà che sono state finanziate se possibile guarda quante ne vuoi nel senso che ne abbiamo veramente tante noi prima Marco faceva riferimento alle cooperative sociali banca etica finanzia i due consorzi di cooperative sociali più grossi della Puglia il consorzio Meridia il consorzio il pendù che a loro volta aggregano una serie di cooperative sociali anche loro socie e clienti la banca parliamo di case famiglie per minori parliamo di progetti di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati parliamo di attività culturali finanziamo la piccola compagnia teatrale non so se qualcuno di voi è di Andrea conoscete teatro minimo finanziamo teatro minimo portiamo avanti questa è una cosa che non vi ho detto progetti locali in partnership con amministrazioni pubbliche o con istituzioni private finalizzate a contrastare il tema della povertà o a supportare la nascita di nuova impresa abbiamo convenzioni di microcredito con la Caritas di Andrea con la regione Puglia abbiamo convenzioni di microcredito con il comune di Putignano supportiamo percorsi di reinserimento e di riabilitazione sociale di ex detenuti finanziamo associazioni che si occupano nel tema della parità di genere che si occupano delle discriminazioni sessuali cioè in realtà Bari e la regione Puglia è una realtà molto attiva e molto viva nel senso che abbiamo un ampio panorama finanziamo anche imprese profit che si occupano di energia da fonti rinnovabili adesso abbiamo per dire dato una cinquantina di polizze fiduissori ai ragazzi che si erano aggiudicati principi attivi noi non te l'abbiamo data abbiamo tutte le cose di tutta la venda anche la regione Puglia quali erano perché c'è stato un problema proprio intorno a fine luglio agosto che nessuno diceva nulla però alcuni l'avevano tenuta e allora tutti disperati sì da un certo punto sono tutti tutti a banca etica perché gli altri non le davano nessuno non le davano però forse era molto non so perché la volevano scartare ma perché non era possibile non so che succede no ne abbiamo dati guarda in realtà sui 204 progetti finanziati noi ne abbiamo fatti una cinquantina che per una banca minuscola come la nostra ha comportato il collega che le fa diciamo un'attività intensissima in tutto il mese di luglio e buona parte di agosto poi voglio dire ci sono chiaramente una serie di ragioni non so quale possa essere stata però ne abbiamo fatte tante guarda veramente apicoltrici ce l'abbiamo tutte insomma nel senso che quello che attiene attiene questo ambito di attività prevalentemente cooperative sociali che svolgono servizi socioassistenziali cooperazione internazionale e progetti diciamo più ampi legati allo sviluppo dei paesi impoveriti cultura e sport cultura e sport per tutti abbiamo più o meno ce l'abbiamo tutti abbiamo tanti tanti clienti tante cooperative sociali tante associazioni che per fortuna diciamo sono socie clienti di banca etica la differenza non ho capito bene se prima ci parla della differenza del gap che c'è tra il tasso di interessi per i depositi giusto che non è poi così alto non è così ampio tra voi e una banca normale invece il gap che c'è tra il tasso di interesse per i prestiti quindi di restituzione allora stante che perché poi questo succede spesso moltissimi vengono a banca etica perché banca etica farà i tassi più bassi che ci stanno me li regala o quasi i soldi allora in realtà questa cosa non è nel senso che banca etica siccome vive dell'intermediazione e basta nel senso che non fa il conto economico dall'offerta di servizi di un certo tipo o comunque non fa attività speculativa chiaramente sta in piedi e si mantiene attraverso chiaramente la forbice che riesce a recuperare fra quanto presta e a quanto remunera io ti dicevo i nostri tassi di interesse dare e avere non sono così diversi in generale dal mercato tradizionale anzi in alcuni casi sicuramente per esempio per le cooperative sociali sono più bassi di quanto per quel discorso che vi facevo prima di quanto le cooperative sociali avrebbero nel mercato tradizionale salvo diciamo casi particolari noi ci siamo dati una regola dall'inizio che era quella che per noi ogni cliente che sia di Bolzano o che sia di Canicattì vale alla stessa maniera io non so se voi avete un'esperienza di questo tipo in realtà i tassi di interesse in Italia non sono uguali in tutte le regioni geografiche i tassi di interesse al nord Italia sono molto più bassi del tasso di interesse che gli imprenditori al sud Italia perché nel sud Italia si dice che c'è una discorsità più elevata per noi nella nostra pratica rispetto al range dei nostri clienti non è così noi abbiamo adottato una politica in base alla quale il tasso di interesse è lo stesso al nord e al sud abbiamo adottato una politica per la quale il tasso di interesse che noi paghiamo diciamo rispetto ai depositi è uguale al nord e al sud neanche questo succede siamo l'unica banca che investe al sud molto di più di quanto raccoglie il livello di finanziamenti che per esempio fa la filiale di Badi che copre anche la Basilicata e il Molise in questo momento non li potrebbe fare soltanto contando sul livello del capitale sociale dei baresi dei pugliesi noi finanziamo per quattro volte quello che potremmo finanziare rispetto alla raccolta ma perché? perché utilizziamo quel principio di solidarietà raccogliamo molto al nord dove c'è una propensione diciamo maggiore dove c'è più denaro e investiamo al sud normalmente il contrario le banche raccolgono al sud tutto quello che possono raccogliere e prestano un tasso più basso al nord dove c'è una capacità di intrapresa maggiore noi abbiamo detto siamo tutti uguali e anzi voglio dire funziona anche che in virtù di questo principio solidaristico fra clienti e soci noi abbiamo ovviamente siamo stati la prima banca e tuttora diciamo siamo forse la banca che più finanzia tutte le cooperative sociali che lavorano i terreni confiscati alla mafia o che gestiscono i beni confiscati finanziamo le cooperative sociali anche in Puglia che si occupano di questa cosa abbiamo raccolto tanti soldi al nord Italia per finanziare questi progetti in Sicilia in Calabria e in Puglia in virtù di quel principio solidaristico che c'è fra click fra consumatori tra risparmiatori attenti a questo tipo a questo tipo di cose ci sono dei prodotti sui quali siamo molto convenienti ci siamo dei prodotti in cui lo siamo meno però a conti fatti scegliere banca etica non comporta un danno per le proprie tasche così elevato come diciamo come si potrebbe pensare in più diciamo banca etica ha esattamente tutti i prodotti identici e precisi di una qualsiasi altra banca quindi carte di credito bancomat domiciliazioni pagamenti dell'F24 cioè RIB cioè tutto internet banking su questo noi abbiamo molto lavorato negli anni cioè proprio per avere un livello di efficienza e un livello di copertura dei bisogni che fosse all'altezza del compito che volevamo portare avanti che vogliamo portare avanti un'altra domanda sempre riferita al vorrei sapere voi non avete contatti quindi con la banca d'italia cioè la banca d'italia se ne è appena andate ci ha fatto un ispezio siamo la banca più ispezionata da banca d'italia del mondo ma voi non siete cioè siete comunque influenzati dal fatto che ad esempio dalle decisioni del tasso di interesse di presto quindi normale assolutamente non potremmo cioè noi siamo non potremmo per legge non potremmo non farlo cioè saremmo fuori legge per poter essere degli intermediari finanziari riconosciuti e lavorare nella legalità deve essere riconosciuto dalla banca d'italia abbiamo il nostro abbi abbiamo il cab cioè siamo assolutamente iper controllati perché siamo una banca strana quindi diciamo non casomai non si può dire che non controllino anche gli altri scappano delle cose da noi nel giro di 15 anni abbiamo avuto già tre ispezioni generali di banca d'italia che però diciamo fino ad oggi non ha riscontrato nulla di particolarmente non ci ha erogato multe non ci ha commissariato anzi ci ha anche fatto i complimenti in alcuni casi ci vogliono uccidere guarda le vostre esperienze di microcredito dato che per esempio c'è un mio amico che ha utilizzato un'altra ente che non è una banca però penso sia una fondazione perché con la legge nuova anche le fondazioni possono e onestamente poi il tasso che gli hanno applicato era molto 14% no molto più alto 14% il tasso il 19,6 pure Junus ma non c'è Marco sì infatti anche Junus fa questi tassi e quindi poi ci siamo chiesti se alla fine che differenza c'è tra andare uno strozzino no allora ti dico qual è la differenza perché questo è importante allora i tassi di interesse no 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 i tassi di interesse che fa Banca Etica ai microcrediti sono al massimo del 4,5% ti dico al microcredito il motivo per il quale si fanno quei tassi che lo dico al di là del discorso diciamo di Banca Etica è che in quel caso si dà per scontato che il problema non è quanto interesse paghi ma se qualcuno ti dà dei soldi che è lo stesso diciamo identico meccanismo che si riscontra oggi se tu vai a chiedere un prestito in una banca in un momento in cui nessuna banca ti fa dei prestiti chi va in banca non è intanto interessato a quanto interesse paga quanto al fatto che questi soldi glieli diano allora alla base dell'attività di microcredito realizzata in quella maniera sta chiaramente da un lato il grosso rischio che la fondazione in qualche maniera la fondazione o le istituzioni corrono a prestare dei soldi a dei soggetti che non sono bancabili e quindi quel grosso rischio è coperto quindi loro devono fare in modo che dalle entrate di quelli che rimborsano si coprono anche diciamo le perdite di quelli che non rimborsano la differenza con lo strozzino è che se tu non paghi la rata al massimo ti iscrivono nella centrale ma certamente non ti sparano dietro e non ti fanno saltare però per dirti per dirti la nostra idea diciamo di microcredito cioè i nostri progetti di microcredito invece hanno diciamo un'idea anche sul sul tasso di un certo questo perché ti dico noi lo costruiamo allora il problema dell'appunto del microcredito è che si rivolge perché sia efficace cioè perché abbia una sua funzione reale si deve rivolgere a soggetti non bancabili quindi soggetti che non hanno garanzia in termini patrimoniali in termini immobiliari in termini reali di restituzione ora siccome il compito dell'intermediario finanziario qualsiasi o comunque di chi gestisce un discorso di raccolta e di prestito il primo compito è quello di tutelare chi i soldi te li dà naturalmente quindi avere un'attenta valutazione del rischio a cui sottoponi chi ti ha dato i soldi è necessario appunto ed è il motivo per il quale si chiedono le garanzie essere molto attenti a questo lato come che cosa facciamo noi noi costruiamo insieme a enti locali le caritas insomma quelle organizzazioni che hanno questa funzione statutaria sociale costruiamo dei fondi di garanzia che sopperiscono al problema della non bancabilità cioè dell'assenza questa cosa ci consente di mantenere bassi i tassi i tassi di interesse quindi di favorire l'accesso al credito diciamo più a condizioni a condizioni migliori per il soggetto che ne soffruisce con la cosa che chiaramente il prestito è per una parte garantito da questo fondo da questo fondo di garanzia e che poi la banca raddoppia triplica inserisce un meccanismo moltiplicatore quindi per dire se esiste un fondo di garanzia di 25.000 euro la banca concede presti fino a 75.000 euro quindi assumendosi anche il rischio di impresa rispetto a questo accanto all'attività prettamente creditizia che poi diciamo distingue il fare microcredito dal concedere un piccolo prestito come potrebbe fare una qualsiasi finanziaria perché può essere che il tuo amico sia andato da una finanziaria cioè non no è che normalmente si avviano anche delle attività di supporto e di sostegno collaterali che sono finalizzate a rinforzare il soggetto il soggetto debole il soggetto debole che può essere appunto una persona che vive uno stato di difficoltà sociale di disagio sociale di povertà oppure un'impresa giovane un'impresa in fase di start up un'impresa che ha vissuto dei momenti di difficoltà determinati da particolari condizioni ci sono normalmente servizi collaterali di sì del tipo che se tu sei uno soggetto svantaglio sono pure in streaming però voglio dire se sei un soggetto che in qualche maniera viene fuori da un percorso di riabilitazione sociale hai gli assistenti sociali psicologi che ti accompagnano nel tuo percorso di reinserimento se sei invece una giovane impresa hai qualcuno che ti aiuta a fare il business plan o ti aiuta dal punto di vista della fiscalità ti aiuta dal punto di vista della lettura del mercato nel piano di comunicazione cioè ti fa un accompagnamento fino al momento in cui non ti rendi autonomo e quindi non ti rinforzi nelle tue competenze che possono essere competenze sociali umane promozionali o competenze tecnico economico scientifiche per quello che riguarda le giovani imprese per quello si distingue il microcredito imprenditoriale dal microcredito socio assistenziale la legge prevede che ci siano diciamo dei massimali diversi fino a 10.000 euro i microcrediti socio assistenziali fino a 25.000 euro i microcrediti imprenditoriali appunto per gli start up noi abbiamo esperienze di entrambe queste modalità di intervento una domanda banale in realtà lei ha detto che l'anno prossimo Banca Etica compie 15 anni quali sono le difficoltà che ha dovuto fronteggiare in questi 15 anni che sono state superate attraverso quali strumenti poi sono state superate nel corso di questo periodo allora io devo dire che è chiaro Banca Etica ha avuto diciamo tutte le difficoltà che normalmente hanno delle imprese delle imprese giovani che si sperimentano in settori particolari per esempio rispetto ai progetti di microcredito che era quasi il cuore del business che noi volevamo attivare all'inizio abbiamo avuto solo o quasi sconfitte anche perché appunto il modello di Junus era un modello di riferimento sicuramente l'efficacia di quell'azione in termini di promozione è importantissima però proprio perché non avevamo ben affinato questo meccanismo triangolare fra chi presta chi garantisce e chi accompagna moltissimi dei nostri primi finanziamenti per fortuna non di grande quantità sono stati vanificati da una non attenta valutazione della capacità restitutoria del soggetto che veniva tramite la Caritas per esempio a chiederci un prestito un'altra difficoltà che abbiamo avuto paradossalmente è una difficoltà legata alla grande crescita che abbiamo avuto siamo partiti per essere quasi una banca piccola dimensione localistica e invece poi c'è stato un grosso riscontro tuttora abbiamo diciamo ci sono tanti che dicono peccato non vi fate conoscere non fate la pubblicità non fate la promozione nessuno vi conosce sarebbe bello che però è chiaro che tutte le imprese devono fare i conti con la dimensione organizzativa di cui diciamo sono dotate un'altra diciamo non difficoltà però un altro elemento di caratteristica e di criticità e per quello che ci riguarda poi è stato è un elemento di successo è proprio il fare convivere questa dimensione sociale associativa e la dimensione operativa cioè questa idea di lavorare in maniera integrata area culturale area commerciale protagonismo dei soci necessità di diciamo anche professionalità ma anche rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti della banca una grossa aspettativa in termini di qualità del lavoro di chi lavora in banca etica perché chiaramente diciamo sei tutti molto fortemente motivati da un punto di vista sociale però poi alla fine ti ritrovi a fare i bonifici se sei in cassa ti ritrovi a rifare i bonifici versamenti prelievi e pagamenti di bollette esattamente come un altro come un altro dipendente di banca allora se non sei bravo a mantenere molto alto il livello di coinvolgimento morale politico culturale rispetto a quello che poi la banca fa corre il rischio di creare malumori e di creare scontento all'interno dei lavoratori sicuramente diciamo siamo una banca piccola e quindi siamo molto soggetti ai cambiamenti normativi per esempio la nostra la nostra idea di banca è la banca partecipata la banca nazionariato diffuso il governo Monti ha introdotto una norma in base alla quale chiunque possegga anche un'azione di banca etica cioè un titolo mobiliare deve pagare una tassa un'imposta di bollo di 34 euro all'anno quindi sì hanno a mente prima c'era c'era anche prima ed è anche corretta la razza cioè se tu se tu fai lo speculatore se tu vivi diciamo della compravente di titoli azionari ci devi pagare età se anzi ne pagano molto poca rispetto ai redditi da lavoro fate conto che quella quelli i redditi da speculazione finanziaria sono tassati del 12 e mezzo per cento quelli da lavoro minimo del 20 se poi se poi guadagni diciamo 500 euro al mese quindi un principio corretto c'era fino a appunto a due anni fa il limite di 1000 euro quindi chi possedeva fino a 1000 euro di azioni di banca etica non pagava l'imposta di bollo in realtà noi perché siccome favorivamo la sottoscrizione di azioni per i motivi che vi ho detto prima pagavamo anche noi l'imposta di bollo di quelli che avevano di più di 1000 euro adesso diciamo chiunque vuole diventare socio di banca etica deve sapere che pagherà un'imposta di bollo di 30 minimo 34 euro 34 euro all'anno chiaramente quelli che prima compravano le azioni per motivi politici per motivi simbolici adesso in qualche maniera sono un po' più scoraggiati quindi è una maniera di scoraggiare la finanza partecipata è una maniera perché se poi vediamo la gradualità chi lavora chi fa tanto diciamo in proporzione paga molto di meno dei 34 euro di chi possiede un'azione da 57 euro di banca etica perché un'azione di banca etica costa 57 euro quindi paradossalmente se io mi adesso è impossibile comprarsi uno bisogna comprarsi il minimo cinque ma pure se io prendo 300 euro di azioni di banca etica devo sapere che ogni anno il 10% del valore di quell'azione di quelle azioni vanno imposta di bollo per il 2013 la banca ha deciso comunque di accollarsi il costo dell'imposta di bollo con il risultato che abbiamo fatto 1.400.000 euro di utili una delle poche banche che ha chiuso inutile il 2013 ne abbiamo spesi 700.000 per pagare l'imposta di bollo degli azionisti di banca etica naturalmente questa cosa non è possibile pensare di farla per sempre altrimenti ci taglieremo ogni possibilità di sviluppo ulteriore e quindi dal 2014 chi comprerà l'azione di banca etica dovrà sapere che pagherà un'imposta di bollo è chiaro che se sei cliente della banca se hai degli altri investimenti comunque un'imposta di bollo la paghi viene compensata e non è un problema se vogliamo è anche una spinta a diventare cliente a usare la banca per quello che è interamente però noi siamo stati fortemente condizionati dall'introduzione di questa norma che è una norma che mira anche se forse non era neanche il suo obiettivo specifico però non facendo nessuna diversificazione per esempio tra quelli che comprono azioni di banca etica o comunque di soggetti finanziari etici e chi compra azioni di Deutsche Bank o BNL per dire tra le più armate chiaramente risentono risentono i primi pochissimo pochissimo i secondi devo dire non abbiamo avuto troppe difficoltà abbiamo avuto un livello medio di difficoltà che sta però per esempio noi abbiamo chiuso in perdita solo il primo anno che era l'anno diciamo in cui abbiamo fatto gli investimenti dal 1999 ad oggi non abbiamo mai più chiuso in perdita un nostro bilancio di esercizio abbiamo sentito come chi finanzia banca etica invece i propri soldi come li investe cioè come sono collocati allora noi prevalentemente i nostri allora nonostante che ne investiamo pochini perché la stragrande maggioranza li investiamo chiaramente dopodiché noi abbiamo normalmente investiamo in titoli di Stato per un tanto tempo non abbiamo investito in titoli di Stato italiano perché i titoli di Stato italiano avevano diciamo un rating sociale molto basso per via delle politiche per esempio rispetto ai paesi impoveriti rispetto a tutta una serie a una serie di diciamo di standard in realtà poi diciamo la valutazione sociale dei titoli di Stato italiani è un po' migliorata e quindi investiamo prevalentemente in titoli di Stato italiani o comunque titoli di Stato di Stati che hanno che hanno un comportamento positivo ciao volevo sapere degli esempi per quanto riguarda il microcredito rivolti in abito praticamente culturale ma anche con riferimento non lo so per esempio delle associazioni di promozione sociale che tipo c'è di intervento c'è di finanziamento cosa andate a coprire in un certo senso in ultimo non so non acceno sui criteri eventualmente per accedere al microcredito se per esempio l'associazione deve essere già costituita o deve essere in fase di costituzione o quanti anni deve avere per poter sto guarda allora molto ti dicevo che l'obiettivo nostro come banca è quello di dare compiutezza a questa idea della banca di prossimità cioè della banca che dà delle risposte concrete rispetto ai bisogni emergenti in determinato territorio quando noi pensiamo ad un progetto di microcredito normalmente lo facciamo insieme al partner che promuove questo progetto di microcredito e quindi nell'individuazione del target ma anche rispetto all'oggetto del finanziamento si ragiona molto con il soggetto che promuove l'azione per dirti questa la convenzione che noi abbiamo con la Caritas di Andrea è una convenzione che nasce nell'ambito di un progetto più ampio a livello nazionale della CEI che si chiama Progetto Policoro che era un progetto finalizzato a supportare a sostenere la nascita di imprese giovanili e anche l'autoimpiego dei giovani del meridione attraverso appunto azioni quali appunto il supporto allo start up il supporto nel caso della convenzione che noi abbiamo con la Caritas di Andrea finanziamo prevalentemente imprese e associazioni non ancora costituite cioè quindi quello che noi finanziamo sono le spese di investimento iniziale così è stato per teatro minimo teatro minimo è stato beneficiario di un microcredito della Caritas di Andrea che era proprio finalizzato alla costituzione dell'associazione alla definizione di quello che bisognava fare di piccoli investimenti legati all'attività dell'associazione dell'associazione stessa prevalentemente i microletti imprenditoriali sono finalizzati agli start up nella stragrande maggioranza dei casi e quindi normalmente coprono costi di investimento iniziali qual'era l'altra no sì ho risposto a tutti e due sì sicuramente teatro minimo abbiamo finanziato una compagnia di danza sempre anche lì sono normalmente costi di investimento legati ai contenitori in cui si andrà ad operare sostanzialmente abbiamo finanziato ricerche studi e ricerche propedeutiche all'avvio di attraverso attività di microcredito per esempio associazioni costituite recentemente solo anno bisogna allora no 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 va bene la questione la questione fondamentale per il progetto di microcredito però è che ci sia il collegamento con il partner che lo promuove cioè il partner in questo caso la Caritas di Andrea per dire teoricamente se questa associazione ha sede ad Andrea lo può fare se ha sede a Bari non lo può fare cioè non può accedere a quel tipo a quel tipo di a quel tipo di progetto proprio perché c'è questo vincolo molto forte fra il fondo di garanzia e l'erogazione e l'erogazione del credito nella Caritas di Andrea abbiamo anche fatto dei microcrediti associazioni già costituite da poco costituite per problemi diciamo emergenti o problemi specifici abbiamo un microcredito per gli immigrati che invece funziona per tutta la Puglia perché è una cosa che facciamo con la regione Puglia e che quindi ha una copertura ha una copertura regionale zona Valeditra e Cisternino non abbiamo niente allo stato attuale in realtà zona Valeditra e Cisternino così come un po' tutto il Salento diciamo se prendiamo come avamposto del Salento la Brindisi Taranto abbiamo un problema legato come io vi dicevo che molto di banca etica parte dal presidio sociale quindi dal numero di soci che ci sono che fanno questo attivismo spontaneo e che in qualche maniera inducono anche la banca a prendersi carico di problemi di quel territorio purtroppo negli anni non abbiamo avuto non siamo stati capaci insomma non si sono create nelle province di Brindisi Taranto e Lecce quelle situazioni in cui ci sono stati gruppi di soci trainanti che poi hanno anche un po' spostato l'azione della banca perché funziona sempre così cioè nasce un ufficio di banca etica o una filiale di banca etica dove c'è un terreno fertile da un punto di vista culturale da un punto di vista politico da un punto di vista sociale che ne chiede che ne attrae in qualche maniera l'interesse quindi abbiamo su quella zona in questo momento facciamo un po' fatica certo se ci viene la cooperativa sociale che vuole aprire il conto corrente o chiedere un finanziamento banca etica all'associazione non c'è problema di nessun tipo però fare delle progettualità specifiche a forte valenza territoriale non ci riusciamo c'è un certo domande penso che siamo stati perfetti perfetto noi ti ringraziamo grazie a voi questo nuovo sottofondo che abbiamo iniziato sì sì va bene ti ringraziamo è stato molto utile avere poi un riscontro soprattutto sul territorio che penso è la parte che per lo meno per quello che ci riguarda ci interessa in maniera più più importante per chi vorrà l'appuntamento è per domani mattina dalle 10 allargheremo un po' lo sguardo guardando prima al Mediterraneo la mattina con la presenza di Maria Ancona che è una collaboratrice dell'assessorato al Mediterraneo ci illustrerà delle possibilità o comunque quelle che sono le attività di avvio alla piccola imprenditoria nel Mediterraneo e poi l'esperienza di Dodd Marina non so pronunciare bene il cognome che è il collaboratore di uno dei progetti di collaborazione che ha agronomi senza frontiere in Albania un'azienda agricola e poi il pomeriggio apriamo lo sguardo completamente verso quello che è l'ambito di interesse dell'associazione che sono i Balcani con la presenza di Cristian Elia e di un giornalista e Livio Senigalliesi che è un fotoreporter che ci parleranno un po' di quella che è la loro esperienza e ci illustreranno un po' quello che è il contesto sociale e culturale dei Balcani niente io vi ringrazio per essere passati e grazie ancora alla dottoressa Mascio Pitto buonasera grazie a tutti Grazie a tutti